Il gruppo è benissimo, tutti i giocatori sono aiutanti e bravi, quindi io sono contento. Mister Boscaia è un bravo allenatore, sono allenato tre volte, quattro volte, devo adattare un po' di più, però ci mette un po' di tempo, però tutto a posto. Sì, giocare fuori d'Italia è un'altra esperienza, a me piace fare l'altra esperienza, quindi io sono contento che ho fatto quell'altra esperienza. Giocare fuori d'Italia è bene, mi piace, però anche l'Italia, quindi io sono contento che sono tornato. Saranetana è una squadra forte, però anche noi, quindi dobbiamo giocare come Mister Chiede e provare a vincere.